Dottoressa Singh, fino a poco tempo fa si pensava che l'aumento della produttività nel settore agricolo fosse sufficiente per risolvere il problema della fame, pensa ancora che questa sia l'unica strada percorribile o ci sono altre attività che debbano essere messe in campo? Perché se hai la città e le persone non hanno l'income per comprare la città, la città è di piccola conseguenza. Quindi dobbiamo vedere come la crescita che è in molti di questi paesi di sviluppo che ha anche un'incidenza di inglese e malnutritione, la crescita deve essere più equitativa e e la crescita deve essere più inclusiva, così che più e più persone possano avere accesso a la città di potenza, come vediamo, così che possono almeno acquistare la città di nutrizione che hanno bisogno per una dieta healthy. Credo che la conferenza ha bisogno di guardare questo. anche il fatto che solo ha la città di avere la città di non è enough, perché la città di potenza può avere, ma non è molto più nutritiore. Quindi la città di alimentare e la città di nutrizione, i prodotti e i prodotti che sono guardate a vedere la città di nutrizione che hanno bisogno di avere un grande dialogo con loro, come per quanto tipo di alimentare e prodotti che hanno bisogno di essere in order to ensure the nutritional balance that is so necessary for a healthy existence. Di questo tema della sicurezza alimentare, della food security, secondo lei se ne sa abbastanza cause e soluzioni o c'è bisogno ancora di fare ricerca e di studiare le strade migliori verso la soluzione? La ricerca è sempre buona, ma anche la città di più, ma la città di più è molto buona, ma il problema è che il quale città di avere il quale che è disponibile a questo punto in tempo è adicato per risolvere molte di questi problemi e, perciò, la campagna di awareness deve essere intensificata per assicurare che le persone sappiano che le cose le sono le righte e come le possono accettarci e come le possono avere. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi anni? Qual è la sua sensazione su quello che potrà accadere? Il prossimo anno è troppo corto per essere optimistico perché è troppo complesso un problema, ma nel medio e nel lungo termine sono sicuramente molto optimistica, e soprattutto voglio indossare il fatto che ci sono tantissime tecnologie che sono disponibili oggi, ma ci sono molti ambivalenti per la maggior parte delle persone adottando queste tecnologie. C'è una schiazza, molti nostri leader non sono preparati per stare per queste tecnologie, e credo che stiamo perdendo molto. l'uomo è veramente perdendo questo fronte. Grazie, dottoressa Singh. Grazie. 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 Grazie.